Benvenuti qui in Alcademia Chigiana, vi porto i saluti della direzione. Siccome questo è un luogo, un'occasione in cui si raccontano delle storie, allora volevo raccontarvene anch'io una qui appunto al TEDx Sliding Doors. Vi racconto la storia che ha a che fare con questo luogo, ha a che fare con questo palazzo, con questa stanza. Guido Chigi Saracini nasce nel 1880 con un cognome enorme ma con un patrimonio non altrettanto vasto. Quello veramente ricco è lo zio primogenito Fabio Chigi Saracini. Comunque Guido cresce con un'infanzia in collegio, un'adolescenza nelle cerchie nobiliari e a 25 anni Guido è un uomo che ha fondamentalmente due passioni. Una è la fotografia e l'altra è la musica che vale qualcosa di più. Guido ha studiato violino, suona il pianoforte, ama Chopin sopra ogni cosa, scrive canzoni, canzoni che vengono pubblicate anche da importantissimi editori in tutta Europa ed è anche un fan sfegatato di Giuseppe Verdi, tanto appassionato di Verdi da sposare nel 1905 la figlia di un baritono verdiano, Bianca Cashman. La loro vita scorre felice, almeno apparentemente, nel palazzo di Via Camollia, fino a che nel 1906 improvvisamente lo zio Fabio Chigi Saracini muore in un incidente di caccia. Fabio Chigi Saracini aveva designato Guido Chigi come unico rete universale di tutte le sue ricchezze, quindi Guido si trova ad ereditare, oltre al titolo di conte, anche il palazzo al piano, con le cave, la villa di Castelnuovo Berardenga, con migliaia e migliaia di ettari di terreni, poderi e fattorie, e il palazzo di Via di Città, il palazzo Chigi Saracini, questo palazzo qui. In quel momento Guido decide che questo palazzo sarebbe diventato un tempio della musica e all'interno di questo tempio un cuore, il cuore, il Sancta Santorum, il salone. Per ristrutturare però il palazzo, lui chiama l'architetto, artista, Arturo Villigiardi, e gli chiede di ispirarsi a quei luoghi che sono lì dove è nata la civiltà della musica strumentale italiana, guarda la Venezia di Vivaldi, perché Guido sogna che un giorno anche l'Italia possa vantare le radici della musica strumentale come possono fare i tedeschi con Bach, e per questo appunto fa ispirare Villigiardi al 700 veneziano. Solo che il 700 di Villigiardi, come potete vedere, dialoga, anzi amoreggia, con l'Art Deco, con i Liberty, e dialoga con quel medioevo Ghibellino che il palazzo conserva ancora nascosto da qualche parte. Dunque, questo è un tempio, questo luogo dove siamo, non si poteva entrare col cappello, non si poteva entrare col bastone, bisognava rispettare, non si poteva uscire finché c'erano i musicisti sul palco, ma per ufficiare i riti di un tempio, quale può essere lo strumento migliore se non l'organo? Ed ecco che Guido Chigi Saracini fa costruire un organo che sia il migliore, il più all'avanguardia possibile, da due grandi organari, Carlo e Francesco Vezzetti Bossi. Ma lo fa con la supervisione di un amico, Marco Enrico Bossi, che è il più grande organista in circolazione. Dopo mille vicissitudini, quest'organo è molto complicato, molto moderno, riescono a, più o meno quasi, a metterlo a punto, e nel 22 novembre del 1923, il giorno di Santa Cecilia, finalmente inaugurano questa stanza, inaugurano l'organo, con un concerto, appunto un concerto d'organo per coro e orchestra d'archi, dove vengono suonate delle musiche di Azzolino dell'Acciaia, Frescobaldi, e anche una cantata, composta da Marco Enrico Bossi, esplicitamente commissionata dal conte Guido Chigi Saracini. Ma Guido Chigi Saracini è un intellettuale che guarda con attenzione alla contemporaneità, e sa che, appunto, qui c'è un palco, lì c'è l'organo, e allora come si fa ad ufficiare i riti attraverso anche qualcosa di spettacolare? Decide che, insieme alla musica di Marco Enrico Bossi, avrebbe ballato anche Charlotte Barat. Chi è Charlotte Barat? Charlotte Bachrach è una danzatrice, nasce da una famiglia di ricchi industriali ebrei tedeschi a Bruxelles, subito si appassiona la danza, nel 1915 prende lezione da Alexander Sakharov e da sua moglie Clotilde, Losanna, Alexander Sakharov sta in quel momento rivoluzionando la danza, il linguaggio della danza, e insieme alla moglie loro dichiarano che la musica non va interpretata, non va mimata, ma va vissuta spiritualmente e espressa attraverso i movimenti del corpo. La Charlotte Barat si sposta nella comune, frequenta la comune di artisti di Wortsfede, e viene ritratta da Enrich Vogler come vittima della guerra nel 1918, poi si sposta a Berlino, diventa ispirazione per moltissimi artisti berlinesi, e nel 1923 gira un film intitolato Le danze gotiche di Charlotte Barat. Charlotte Barat si ispira agli antichi riti egiziani, antichi riti egizi misteriosi, ma piano piano comincia a interessarsi anche del Medioevo, del Rinascimento italiano. Ha preso il nome di una famosa, ha preso il cognome di una famosa altra star del cinema americano, che nel frattempo sta interpretando, anzi sta incarnando il ruolo di Cleopatra, Teda Barat. Insomma, quindi il conte decide che la Barat è la persona giusta per celebrare dei riti con le sue danze sacre, e sa che anche la Barat sta lavorando su una pantomima dedicata a Caterina da Siena. Quindi decide, la mette in comunicazione con il maestro Bossi per organizzare questo spettacolo. Questo spettacolo, il Bossi all'inizio si lamenta un po', perché la Barat gli manda delle musiche che lui non conosce, vuole le partiture, lei nel frattempo gli manda altre lettere, gli manda un repertorio di musiche, preferirebbe un pianista, perché l'organo non le piace tanto. Comunque le danze egizie le farà senza musica, perché non ne sente il bisogno. Chiaramente Bossi, che è un grandissimo musicista, un po' si risente, e tutto quanto di questo dibattito avviene triangolato in mezzo il povero Piero Baglioni, segretario artistico del conte e violinista. Ma insomma, dopo tante lettere, alla fine si mettono d'accordo e organizzano un repertorio che tiene insieme le musiche di Johann Sebastian Bach, del figlio William Friedman, di Cesar Frank, Domenico Scarlatti, e su queste musiche la Barat interpreterà le sue pantomime, le sue figurazioni mimiche sacre, e cominceranno appunto con una vision gothic e andando avanti angeli e altre figure, la Madonna, figure penitenti della passione, e così via. Ora Bossi, che all'inizio non è così, diciamo, non crede tanto alla buona riuscita dello spettacolo, anzi, perdono, del rituale arcaico che deve essere realizzato su questo palco, in realtà, quando la Barat appare su questo palco, con i suoi costumi, con le sue movenze, con le sue figurazioni statiche, lui rimane completamente affascinato. E allora, il pubblico è assolutamente invisibilio e quindi decidono di ripetere lo spettacolo e il primo giugno, qualche giorno dopo, cambiano il programma, mettono altre danze, preparano velocemente questo spettacolo e finalmente la Barat potrà debuttare con il suo ruolo in Caterina da Siena. I due continuano a lavorare anche lontani da Siena, infatti c'è questa lettera che dalla Barat al Conte Chigi che gli racconta che stanno lavorando insieme e spera di poter fare una rappresentazione a Roma o anche addirittura a Firenze. Bossi è talmente contento di questa collaborazione e sta per partire per una tournée negli Stati Uniti e quindi magari decide che anche lì potrebbe essere promosso questo spettacolo. Il 18 novembre del 1924 Bossi parte per gli Stati Uniti e la tournée sarà un trionfo, suonerà New York, suonerà Philadelphia, questo è il più grande organo del mondo allora esistente, il wannamaker, e appunto magari parla lì con tanti impresari per poter sponsorizzare questo spettacolo con la Barat e portare la Barat negli Stati Uniti. ma al ritorno nel 1925 nel febbraio il piroscafo su cui viaggiava il piroscafo de Grasse affonda. Quindi Bossi muore e con lui naufraga anche il sogno della Barat. Ci vorrà tanto tempo perché Bossi possa essere rimpiazzato nel cuore dell'amico Chigi finché appunto nel 1929 si presentirà Ferdinando Germani il giovane prodigioso organista che sarà il primo docente di organo in questo luogo quando nascerà l'Accademia Chigiana nel 1932 quindi il primo insegnamento non poteva che essere un insegnamento di organo. La Barat nel frattempo nel 1925 costruirà il teatro San Materno dall'architetto Karl Wedermeyer che è il primo spazio polifunzionale con moduli mobili quindi uno spazio moderno e questo diventerà un tempio per la danza dove appunto si riuniranno degli adepti che frequenteranno la danza come esperienza spirituale e creeranno una compagnia come di lì in poi è diventata un po' gran parte del teatro contemporaneo. Il conte continuerà a fotografare le posture mute delle danze con la sua macchina fotografica oppure organizzerà pantomime come questa nel giardino della sua villa di Casanova Berardenga per l'inaugurazione della statua di Chopin. Inviterà i congi Sakharov a insegnare a Siena e quando loro appunto verranno qui continueranno i loro insegnamenti delle danze in costume fino al 1963 quando proprio durante la settimana di insegnamento Alexander Sakharov terminerà qui a Siena i suoi giorni. Due anni dopo scomparirà anche Guido Quigie Saracini e ci lascerà in eredità questo luogo ma soprattutto la vita che lo anima. Qui dentro hanno risuonato le musiche dopo 200 anni di silenzio di Antonio Vivaldi qui dentro però sono anche suonate le prime note importanti di compositori e artisti che hanno fatto la storia della musica del Novecento. Il conte Guido Chigi Saracini che ha sempre tenuto a apparire come l'ultimo degli aristocratici in realtà ha sempre avuto uno sguardo intelligente e attento sulla contemporaneità tanto che oggi appunto i docenti e gli allievi che vengono qui per i corsi si occupano di conservare la memoria della musica ma anche di spingersi verso l'innovazione perché la musica è un'arte che è fatta di tempo e vive solo di presente la musica è sempre contemporanea e allora la storia di oggi ci dice due cose che non c'è innovazione senza memoria perché abbiamo bisogno di qualcosa per costruire qualcosa di nuovo una base di competenze ma anche che non c'è memoria senza innovazione perché abbiamo bisogno di riconoscere qualcosa di diverso per capire che siamo andati avanti e memoria e innovazione sono le due parole che riassumono un po' la storia dell'Accademia Chigiana la traiettoria perché hanno a che fare con il presente hanno a che fare con il presente il presente che è il tempo delle scelte che sono al centro di tutti i racconti che ascolterete oggi quindi non mi resta che augurarvi benvenuti e buona fortuna grazie a tutti grazie a tutti